Gesù indica alla Chiesa la strada del servizio, ma spesso noi ricerchiamo il potere, i soldi e la vanità. Lui parla il linguaggio dell'umiliazione e della redenzione, noi quello da rampicatori. È stata questa la forte denuncia di Papa Francesco nell'Omelia della Messa del Mattino a Casa Santa Marta, nella quale ha commentato l'episodio evangelico dei discepoli che non riflettevano sulla missione di Gesù, ma discutevano su chi fosse il più grande tra loro. Il Pontefice ha sottolineato che i cristiani devono vincere la tentazione mondana che divide la Chiesa e messo in guardia dagli arrampicatori che sono tentati di distruggere l'altro per salire in alto. Nella strada che Gesù ci indica per andare avanti, il servizio è la regola. Il più grande è quello che più serve, quello che più è al servizio degli altri, non quello che si vanta, che cerca il potere, i soldi, la vanità, l'orgoglio. No, questi non sono i grandi. E questo che è accaduto qui con gli Apostoli, anche con la mamma di Giovanni Giacomo, è una storia che accade ogni giorno nella Chiesa, in ogni comunità. Ma da noi, chi è il più grande? Chi comanda? Le ambizioni? In ogni comunità, in ogni parrocchia, ogni istituzione. Sempre questa voglia di arrampicarsi, di avere il potere.